Buongiorno a tutti. Dal 23 aprile al 14 maggio prossimi saranno aperte le funzioni sul sistema POLIS per la presentazione delle domande di inserimento o di aggiornamento nelle graduatorie permanenti del personale ATA, di cui è l'articolo 554 del testo unico della scuola. Quindi migliaia di assistenti amministrativi, assistenti tecnici, collaboratori scolastici, eccetera, saranno impegnati nella presentazione della domanda di nuovo inserimento o di aggiornamento delle graduatorie stesse, ma su queste graduatorie si presentano i medesimi problemi che abbiamo evidenziato sulle graduatorie di istituto del personale ATA. Facciamo riferimento in particolare alle tabelle di valutazione titoli che non prevedono una valutazione per intero per i servizi prestati presso le scuole paritarie, prevedendo una valutazione al 50% rispetto ai servizi prestati presso la scuola statale e su cui c'è una recente sentenza del Tarlazio che si era espresso proprio sulle graduatorie provinciali permanenti per il personale ATA, evidenziando l'illegittimità di tale valutazione in misura dimezzata dei servizi prestati nella scuola paritaria. L'altro problema che si presenta anche nelle graduatorie permanenti ATA è la mancata previsione, quantomeno in maniera espressa, della valutabilità dei servizi prestati presso gli enti di formazione professionale. Anche qui la giurisprudenza che ha avuto modo di esprimersi in materia ha evidenziato l'illegittimità della mancata valutazione dei detti servizi, tenuto conto che gli enti di formazione professionale costituiscono uno dei pilastri del sistema nazionale di istruzione. Quindi consigliamo a tutti gli aspiranti di dichiarare tutti i servizi prestati presso gli enti di formazione professionale. Arrivederci a tutti.